in questo nuovo video oggi chica boom ci ha mandato un altro pacco un pacco così bello che anche misto vi spieghiamo perché perché ci sono due tipi di diverse bravo due serie diverse che potete potete acquistare in edicola sul sito di chica boom e avete in più il 20 per cento di sconto inserendo il codice alfonsdino denti e poi anche nei migliori negozi di giocattoli come sapete chica boom ormai per noi è una garanzia e quindi non ci basta che collezionare tutti facciamo così vedete un po chi vuole pescare per prima ok pescare senza sbirciare dai pesca 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 prima tu è una tartaruga ninja ragazzi questi sono i puniz delle tartarughe ninja maxi size e voi li conoscete i quattro i nomi delle quattro tartarughe ninja se lo sapete scrivetecelo nei commenti io li conosco e li diciamo alla fine del video quindi guardate tutto il video se non vi siete iscritti iscrivetevi al canale vai mattia pesca mattia pesca 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 e anche per mattia un'altra tartaruga ninja che c'ha un dente una lingua fuori non lo so dopo li apriremo e vedremo un calzino il braccio vabbè dopo controlliamo un poco tutto vai alfonso una scatola con dei personaggi di naruto boom it's vai mattia pesca 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 una pesca abbastanza facile diciamo un altro personaggio di naruto e dopo vi facciamo vedere tutte le aperture di tutti i personaggi questi qua si trovano sempre in edicola sul sito di shikaboom vedete e poi ci sono nel migliori negozi di giocattoli adesso alfonso peschiamo una nuova bustina bustine di naruto queste bustine come potete vedere all'interno ci sono delle card e un dado ogni personaggio è associato al dado c'è anche il quercode per inquadrare sulla bustina il tutto e questi sono adatti a bambini superiori ai 4 anni mi raccomando in edicola nei migliori negozi di giocattoli e sul sito di shikaboom con uno sconto del 20% attivando il codice alfonsdino20 continuiamo mattia vai mattia due mani pesca un'altra tartaruga ninja sempre squishy e sempre il formato grande adesso non abbiamo tanto spazio quindi pescate insieme 3 2 1 ed ecco qui tutti i prodotti di shikaboom adesso pronti a drapirli? sì apriamo i primi due personaggi in 3d di shikaboom naruto naruto eccolo anche questo è associato a un dado bellissimo ed ecco qui due personaggini aperti come potete vedere sono sono fatti benissimo c'è il dado dove all'interno c'è il gioco il gioco dove potete sfidare i vostri amici a giocare in più c'è il buono sconto e anche gira la ruota per avere uno gratis poi ci sono ci sono i 3 gold mi raccomando poi ci sono i glow in the dark tra cui proprio naruto poi ci sono quelli rari due rari e in più ci sono altri 3 glow in the dark di quest'altra parte altre bustine svuotiamo svuotate in giù in giù ok buffina della bustina oh che belli ma questi dadi sono proprio bellissimi è viola è viola è dorato dorato a me è uscito questo ah due uguali ci sono usciti no vabbè vabbè abbiamo un doppione ma certo nelle bustine non sappiamo mai cosa c'è all'interno apriamo l'altra bustina e speriamo che non sia un altro doppione il dado è marrone e quindi sarà un altro personaggio nero nero e rosso nero e rosso io il nero non lo vedo forse sarà un ramato ah è lui gara il nostro personaggio è gara è ancora carino gira carino mi sembra chaki adesso è il momento delle tartarughe ninja e dopo aver fatto lo spettacolo delle tartarughe ninja siamo pronti ad aprirli mattia ce la fai questa è la collezione completa ne sono nove eroi e tutti da collezionare poi c'è un gioco da fare prendere praticamente mettete il punizzo a testa in giù mettete il punizzo a testa in giù testa in giù anche tu schiacciatelo E il prima che si alza Ha perso Pronti? Schiacciate 3, 2, 1 Togliete le mani E tu hai barato eh Mattia Eh non ho mai Sì l'ha tolto dopo Da essere schiacciato Ok Oltre ad essere grandi Sono anche bellissimi Adesso c'è l'ultima bustina da aprire E Pronti? Vai Se non vi siete iscritti mi raccomando Iscrivetevi al canale Lasciate tanti like E seguiteci per avere Altri codici sconto e altri video Divertenti come questi Mattia ha aperto l'altra bustina All'interno c'è sempre Una sartaruga E che bella Questa con la fascia azzurra E in tutto questo Vi ricordate i nomi delle tartarughe ninja? A me sembra uno Forse Forse? Come? Quello viola si chiama Donatello Adesso ve li svelo io Si chiamano Donatello Raffaello Michelangelo E Leonardo E in più Non ho capito quali sono C'è nel bigliettino scritto E in più C'è Il Dotto Sprint Comunque quel topo Il topo Che gli aiuta Sempre Nelle loro avventure Mi raccomando Allora Vi lasciamo il codice sconto In descrizione Vi lasciamo I nomi delle tartarughe ninja E mi Aspettate Mettete tanti like E Ciao Ciao Ciao